Sono Samugaro Daniel, lei e la moglie Mercedes Leonardi, ci troviamo nell'azienda agricola Samugaro Daniel in San Pietro in Gu e oggi abbiamo circa 230 capi in totale, alleviamo vacche e frisone e 140 sono vacche da latte. L'azienda essendo gestita da solo due persone, marito e moglie, e avendo 140 vacche avevamo necessità di limitare i tempi di gestione delle cucette e di conseguenza abbiamo scelto sia le cucette a materasso che a paglia. Siamo stati un po' scettici all'inizio sulla scelta, poi con la professionalità di ATZ ci siamo affidati a loro e abbiamo scelto il materasso proprio per ridurre i tempi di manutenzione e di gestione giornaliera. Sono stati molto professionali, molto veloci e i tempi sono stati quelli prestabiliti e la pulizia è stata ottima e abbiamo potuto continuare le nostre attività in azienda tranquillamente senza aver nessun problema e senza fermarci. Avendo in azienda sia la tipologia di cucetta a paglia che quella a materasso possiamo noi stessi vedere le differenze e abbiamo visto molti più benefici sulla cucetta a materasso perché comporta minor tempo di pulizia, gli animali sono più puliti, hanno molte o meno infezioni a livello di carretti e di ginocchia e il benessere quindi è al top. Per il 2023, dato i benefici che ci hanno dato i materassi ATZ, abbiamo intenzione di completare l'azienda inserendo le ultime 40-45 cucette che ci mancano e eravamo appunto indecisi tra cucetta a paglia e a materasso e vedendo i benefici che ci ha potuto dare Materasso abbiamo scelto di continuare appunto con la posizione dei materassi ATZ. Grazie a tutti.